Papa Bergoglio non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe dovuto ricitare le preghiere in piazza San Pietro da solo, in una piazza deserta, a causa del coronavirus che ha fatto rinchiudere le persone nei loro appartamenti, nei loro casi. Già, forse il volere di energia superiore che ha voluto dimostrare agli uomini come è facile per loro svuotare le chiese e mostrare così la loro grandezza, come hanno sempre fatto nei tempi, nei secoli, ma a prescindere da come non si vuole chiamare la realtà superiore, un fatto è certo, che Papa Bergoglio ha chiesto aiuto contro il coronavirus. Già, è un aiuto che probabilmente qualcuno in cima sorride nel sentirlo, perché gli uomini non se lo meritano, oltretutto da parte di quella chiesa che per cinque secoli, dopo la bolla papale nel 1300 di Gregorio IX, impose alla Santa Inquisizione di bruciare e vivere persone, innocenti o meno, come fu anche con Giovanna d'Arco e il quinto comandamento di Dio era quello di non uccidere e soprattutto l'insegnamento di Gesù è stato quello di amare i propri nemici tanto quanto siamo nei propri nemici, diversamente l'ha chiesa per cinque secoli e ha fatto buciare i vivi. Già, e come si può chiedere allora all'essere supremo di farci sopravvivere all'epidemia del coronavirus? D'altronde nulla succede che Dio non voglia, per chi crede ovviamente. E poi c'è un particolare, un fatto di cui hanno parlato tutti i giornali esaltando l'avvenimento. Sì, la Madonna, la Madonna che dicono che è apparsa in cielo, sopra il Papa. Sì, però hanno dimenticato di sottolineare un fatto, interpretare quello che è avvenuto, perché la Madonna, se voleva apparire in un modo positivo, avrebbe scelto una giornata bellissima o avrebbe fatto in modo che la giornata fosse stata piena di sole, perché tutti la potessero vedere, perché tutti sapessero, sentissero la positività di quel evento. Diversamente invece, su Roma ha piovuto per due ore, il tempo delle preghiere del Papa. Sì, quasi come se fossero le lacrime della madre di Gesù, nel vedere la croce, la croce grandissima portata lì in Vaticano, che chiamano miracolosa, nel vedere ancora suo figlio, crocefisso, dopo duemila anni. E quale madre sorriderebbe di fronte al fatto di vedere ancora il proprio figlio, crocefisso dagli uomini, ingiustamente, ancora sulla croce dopo duemila anni. E allora, la pioggia che è scesa quella giorno, non solo su San Pietro, ma su tutta Roma per due ore, erano le lacrime della Madonna, di quella realtà superiore che inviò Gesù sulla terra per far evolvere gli uomini in esseri umani, facendoli vivere con i sentimenti, con amore, con lealtà, con tutto quello che potrebbe essere il lato positivo della vita, che sconfigge il male dentro ogni persona. Già, questa è la morale di quella presunta o vera apparizione che domenica c'è stata sopra al Papa, come dicono. Già, se Dio un giorno apparisse in cielo, direbbe una cosa sola agli uomini, perché avete crocefisso mio figlio, che è venuto per salvare, aiutarvi a vivere bene, salvarvi dal male, quello che la Chiesa chiama il demonio, Satana. Già, diversamente, gli uomini, come ho già spiegato in molti video, l'hanno ucciso. Nonostante il quinto comandamento di Dio, tra i dieci dati a Mosè, era non uccidere, già, tantomeno il figlio di Dio. Come dico spesso, la gente vede solo quello che le fa piacere, non realmente i fatti o ciò che quei fatti vogliono esprimere. E così come è successo cento anni fa, il 13 ottobre del 1917, quando nella sua ultima apparizione la Madonna fece vedere nel miracolo del Sole, alla fine, che il Sole, diventato rosso sangue, sì, come lo stesso sangue e versato da suo figlio, scagliarsi verso la terra. E lo videro 70.000 persone, però è stato fatto in modo che venisse visualizzata solo la parte positiva, di quando il Sole ballava in cielo, come dicono i portoghesi, e non la parte finale, di quando il Sole, per volere della Madonna, di quella realtà superiore di cui parlo spesso, lo fece precipitare verso la terra, facendo vedere sottostanti, preganti, 70.000 persone, come riportano molte dichiarazioni, la fine del mondo. E in quei momenti tutti piangevano, sì, questa è la realtà che chiunque può vedere, andando sulle pagine scritte dei giornali di cento anni fa, come ho fatto io, e la verità è lì, davanti agli occhi di tutti. Già, è facile ingannare, ma come dico sempre, la verità alla fine emerge, perché la verità non muore, nonostante sia sommersa da tante bugie. Così come è stato nascosto, evidenziato, il significato che la Madonna stessa, cento anni fa, centotre anni fa per esattezza oggi, diede nel suo miracolo del Sole, sì, facendo vedere a quelle persone preganti che ancora avevano la croce in mano con sul proprio figlio, la fine del mondo. E come dico sempre, non resta solo che aspettare per vedere quello che potrà succedere, perché molti signori monitori degli ultimi anni hanno evidenziato che stiamo andando incontro alla fine di questo mondo, come e quando verrà, nessuno lo può sapere, così come nessuno potrà sapere che all'improvviso sarebbe comparso il coronavirus che ha rinchiuso nelle proprie case più di 3 miliardi di persone e molte altre, diversamente, sono già morte. Già, com'è facile dire la verità con poche parole, perché i fatti parlano per chi vuole vedere. Una cosa che chiunque dovrebbe chiedersi è perché si continua a tenere Cristo, Gesù su quella maledetta croce dove l'ha messo il male, sì, quel male che era negli uomini e che ha voluto così facendo distruggere la parte più bella che c'è in essi, l'amore, l'amicizia, la verità e con essi la vera vita. Gesù diceva il Padre Mielo è nei cieli, non un cadavere in croce.